Salve a tutti, io sono TheLongamer e benvenuti in questo nuovo video. Ringrazio AppGallery per averlo sponsorizzato. Oggi proviamo un simpatico e colorato gioco di ruolo ricco di combattimenti e di pet che ci aiuteranno a salvare il mondo dalle malvagie forze del male. E proprio per questo gioco Huawei sta facendo una grande promozione. Se siete appassionati di giochi, non potete non scaricare il loro fantastico store gratuito che si chiama AppGallery, di cui vi lascio un link in descrizione per scaricarvi gratuitamente la pick-up. Su AppGallery sono presenti tantissimi programmi e giochi e soprattutto incredibili offerte e promozioni per i vostri giochi preferiti, con premi unici che anche voi potrete ottenere. Nel caso di Guardians of Claudia, che oggi scopriremo assieme, c'è uno speciale anniversario di metà anno con offerte che termineranno il 26 luglio. Potete infatti ottenere fin dall'inizio un potente pet SSR col vostro primo acquisto tramite un coupon da ben 86 centesimi. E non fatevi sfuggire il coupon da 2 euro per una spesa minima di 4 euro con benefici unici tramite ad esempio l'acquisto di un abbonamento mensile al gioco. Ed infine è presente un terzo coupon da 4 euro per una spesa minimo di 8 euro con cui ottenere un pet angelico unico. E se condividete la pagina ai vostri amici che hanno un account di AppGallery, potrete addirittura girare la ruota della fortuna per vincere altri esclusivi regali di AppGallery. Quindi cosa state aspettando? Scaricate anche voi AppGallery dal link in descrizione e godetevi i grandi giochi presenti e le incredibili offerte. Signori, vi do il benvenuto su Guardians of Claudia, gioco di ruolo free to play che potete scaricare gratuitamente dal link in descrizione. Pertanto ci potrete iniziare a giocare nel giro di pochissimi minuti sia sui vostri smartphone che sul vostro emulatore preferito. Il bello di questo gioco è che peraltro è anche modernissimo, è stato appena rilasciato, ha delle meccaniche veramente molto carine, una grafica pucciosa e colorata che sicuramente vi accompagnerà per decine se non per centinaia di ore di gioco. Ha anche una forte componente MMO quindi potrete giocare sia con gli amici che con altri giocatori direttamente online. E poi ci sono i pet, avete presente tipo i Pokémon? Ecco potete avere anche voi tantissime creature, sono oltre un centinaio di creature che vi accompagneranno in battaglia, anzi saranno dei veri e propri compagni pressoché indispensabili. Ma bando alle ciance e vediamo di iniziare il nostro viaggio. Allora come prima cosa ovviamente dobbiamo selezionare la classe del nostro personaggio, come potete vedere ce ne sono cinque. Vediamo velocemente l'arciere che permette di attaccare tranquillamente i nemici dalla distanza. Il vantaggio principale degli arcieri è che possono fare un sacco di danni, tuttavia nel corpo a corpo avranno delle evidenti difficoltà. Potete scegliere un personaggio di sesso maschile oppure un personaggio di sesso femminile di cui peraltro potete personalizzare l'estetica. E dopo l'andermo vedere qui di lato potete anche vedere ovviamente i vari parametri. Abbiamo poi i maghi. Scusi Ermione di Poveri, buongiorno, come stanno? Le si è alzata la gonnellina ma sono cose che capitano. Se si alza la gonnellina anche al maschio un attimino mi preoccupo eh. Oh Harry Potter, dattena calmata. Anche il mago è in grado di fare un sacco di danni, tuttavia nel corpo a corpo si prenderà di quei ceffoni che lo fanno fuori alla velocità della luce. Ovviamente queste classi sono fatte tendenzialmente per collaborare tra di loro. La mia preferita, ma che domande, lo spadacino. Con lui potete tranquillamente attaccare la classe tank effettivamente del nostro gioco. È dotato anche di un piccolo adorabile scudo. Non so quanto riesca a parare ciccio, rischi di fratturarti il braccio. Uno scudo più grande la prossima volta. Però c'è un grande e grosso spadosso con cui farà una marea di danni ai vostri avversari. Vediamo la versione femminile. Signorina l'ho vista seduta a non far niente per un secondo. Guardi che la prendevo a sculacciate se mi batte la fiacca eh. E non dimentichiamoci ovviamente dell'oracolo. Dotata di magia bianca sarà in grado di supportare i propri alleati con magie che daranno degli status positivi e sarà anche in grado eventualmente di curarli. Va da sé che ovviamente va affiancata ad altri personaggi. Come potete vedere sono personcine di cultura. Oh loro girano sempre col libro non glielo togli ma popo mai. Ed infine abbiamo il rogue, il ladro potremmo così definirlo che permette di attaccare con delle doppie lame facendo una quantità veramente incredibile di danni. Tuttavia sono unità che dovete tenere un po' distante dal nemico perché non hanno una grande barra della vita. Vediamo anche la versione femminile. Serissima la signorina. Allora sapete già che classe scergo? Ovviamente lo spadacino. No signorina ho detto lo spadacino. Buongiorno signore. Se ho visto bene peraltro posso anche personalizzargli il nome. Gente è fatta. Ho il nome più brutto della vita. Lo chiamo Fran Franco. Fran Franco è un nome bellissimo che qualunque persona invidierebbe. Ovviamente perfetto. Vediamo di personalizzare l'estetica di Fran Franco. Tuttavia in questi giochi non puoi fare il personaggio brutto e che mi fa incocchiare tantissimo. Ma vabbè non importa. Allora il cappello di Fran Franco va benissimo così. Rosa. Ovviamente Fran Franco ha il cappello rosa perché è un ometto. Questo... vabbè non importa. Glielo facciamo colare furbina. Non c'è un Fran Franco. Questo è Fran Franco che ha visto ovviamente Justin Bieber e si è praticamente innamorato. Volevo un'espressione un po' più triste. Questo è un Fran Franco colare un po' persa. Ci sta effettivamente. Possiamo cambiare il colore degli occhi. A Fran Franco gli facciamo rossi perché ce li ha tutti arrossati lui poverino. C'ha la congiuntività quella brutta. Ed ecco che il nostro Fran Franco è sceso sul campo di battaglia. Buongiorno signorina. Vedi Fran Franco che trovi già le donnine quelle belle. Allora ovviamente come in molti GDR la trama è composta da wow fai parte delle forze del bene e devi far fuori le forze del male che stanno effettivamente per conquistare il mondo. E noi siamo degli Skywalker no? Non c'entra nulla con Luke. Per favore George Lucas non ci denunciare. Praticamente sono un gruppo di ragazzi che si dovranno addestrare per diventare dei guardiani del bene e difendere effettivamente i poveri abitanti della terra dalle forze del male. Allora cominciamo ad attaccare. Per adesso abbiamo solo delle abilità di base. Mano a mano che level appiamo potete vedere che ci sono diversi slot a cui potremo assegnare ovviamente nuove abilità. Ok scendiamo rapidamente di sotto. A quanto pare Fran Franco è anche un pochettino Tarzan. Ok grazie ho ricevuto la botta con lo scudo. Ti pigli una pacca con lo scudo ti insegno io a rompere le scatole maledetto scheletro. Perfetto al momento siamo tipo forterrimi ma vabbè dettagli vediamo di seguire la signorina. Signorina mi aspetti che Fran Franco c'ha le gambe fragili poverino non ha fatto molta ginnastica. No c'è un povero daccio di animaletto amichevole pokemon di quartiere lo dobbiamo salvare assolutamente. C'è anche qui time event perfetto spaga fuori alla roccia Fran Franco bravo cuoso dimmi che è un pet che posso utilizzare. Abbiamo entrato l'ancillotto ma che carino un pet da tre stelle. Non male siamo stati anche fortunati e abbiamo ricevuto effettivamente una nuova abilità. Vai turbinio scelgo te perfetto nel frattempo continuiamo a legnare effettivamente i cattivoni come non ci fosse un domani. Questo è anche un boss porco cane siamo riusciti ad abbatterlo senza troppi problemi. Potete vedere che adesso l'ancillotto inoltre ci sta seguendo piccolo adorabile stellino. Perfetto quindi non siamo più soli. Come dicevo i pet sono indispensabili per poter andare in battaglia. Oh abbiamo causato un terremoto. Oh a quanto pare si è aperto improvvisamente un portale da cui uscirà sicuramente qualche creatura pericolosa e con intenzioni malvagie. Fran Franco è anche campione di salto in lungo come potete notare non si fa troppi problemi. Signorina faccia attenzione mi hanno investito la signorina il signore aveva il diritto di precedenza. No non sono Luke Skywalker sono Fran Franco Skywalker ma vabbè dettagli ok vediamo di attaccare il tizio. Vai Fran Franco legna il bassardone vai così abbiamo degli attacchi veramente potenti perfetto lo stiamo offrendo pesantemente non stiamo neanche subendo troppi danni. Vai Fran Franco fate aiutare dalla docile creaturina vai così ottimo guarda li stiamo facendo danni in continuazione cerchiamo di utilizzare tutte le nostre abilità ovviamente. Dai 5% 3% e voilà abbiamo sconfitto il nostro primo amichevole boss di quartiere. Fran Franco si è fatto malissimo poverino ha tirato una botta di tetta veramente assurda. Signorina non faccia follie non mi dire che ce la fa per davvero. Fran Franco prendi esempio dalla signorina e no Fran Franco è scivolato di sotto. Ma santo cielo non ci sono più i Fran Franco di una volta dimmi che cadi in acqua almeno così si dà una bella lavata. E bravo Fran Franco oh potete vedere che adesso ci sono anche tutti gli altri giocatori. Ciao amici sono Fran Franco chi vuole giocare con me ma Fran Franco sta sui maroni a tutti purtroppo. Ok ora dobbiamo ovviamente partecipare a tutte le numerose quest da cui è composto il gioco. Guardalo il piccolo lancillotto credo che faccia tendenzialmente magie di vento infatti notate bene che si è aperto questo nuovo comando direttamente qua sopra. Se cambiamo pet ovviamente avendo ognuno di essi abilità differenti avremo anche noi stessi delle abilità uniche da poter utilizzare. Ma la cosa pratica è che qui potete vedere il prossimo obiettivo. Se voi ci cliccate una sola volta automaticamente il vostro Fran Franco raggiungerà il suddetto obiettivo così non dovete neanche camminare. Cosa volete di più della vita? Qua sono delle mele abbastanza strane. Salve signorina Vivian lei c'ha il gatto nero guarda che porta sfiga eh non per dire mob i dettagli. Perfetto nel frattempo ci hanno anche premiato guardi prendo tutto molto volentieri potete vedere che ci hanno dato una spada che mi ha permesso di aumentare la nostra potenza di base. Ci stanno rubando delle mele no aspetta questa è gente che si è tramutata in mele per rubare della frutta come funziona da ste parti va che la gente è messa male eh. Cosa facciamo allora o ci trasformiamo anche noi vediamo un po' devo ripulire tutta la sfera perfetto ok vediamo un po' in teoria dovrei sbloccare forse qualche nuova abilità o potere. Intanto la mia forza è aumentata sono diventato una mela gigantesca praticamente ora che anch'io sono diventato un frutto riesco a capire direttamente la loro lingua perfetto dobbiamo difendere le mele Fran Franco. Datti da fare ragazzo mio e non perdere tempo ok facciamo attenzione mi nascondo dietro un fungo neanche i puffi santo cielo così possiamo ascoltare le mele che parlano. Quanto pare stanno complottando contro gli esseri umani c'erano gli esseri umani che le bullizzano e loro hanno detto mo basta veramente però. Oh sembra che mi abbiano scoperto meglio levare le tende anzi levare la buccia mob i dettagli. Allora dobbiamo raggiungere la cima della montagna ci dovrebbe essere un po' guardate no Fran Franco altro che il passaggio. Fran Franco si è la scala direttamente c'è c'è tipo il sentierino Fran Franco non gli frega niente lui te la scala la montagna a mani nude che neanche Tom Cruise in Mission Impossible 2. Ah le mele mi attaccano Fran Franco sconfiggi la frutta una mela al giorno leva il medico di torno. Qui abbiamo levato parecchi medici sono trasformati in un frutto abnormemente gigantesco mega fazzi. Ok nessun problema te lo sconfigo io a colpi di vento praticamente con questa abilità tornado Fran Franco emette delle scoregge e pertanto riesce a stordire e uccidere tutti i amici ma vabbè lo sconfitta alla velocità della luce. Oh oh direi che adesso la situazione volge a nostro favore meno male la nostra potenza è aumentata letteralmente a dismisura. Volevo aiutare le mele santo cielo che fanno del bene ma a quanto pare loro non vogliono collaborare. Aha mi ero dimenticato dei benefici sapete bene che in questi giochi ogni volta che entrate quotidianamente vi danno diversi premi in questo caso mi danno 50.000 foglie d'argento dovrebbe essere una sorta di valuta di base ovviamente. Poi ci sono le foglie d'oro che avranno una funzione e un valore nettamente maggiore e poi abbiamo le classiche gemmine e potete vedere che c'è anche tanti altre tipologie di oggetti che otterremo durante le nostre quest. Ottimo non ci resta che scendere dalla montagna tuttavia Fran Franco e si è buttato di prepotenza lui. Oh Fran Franco non ha nessun problema signorina per favore non mi trasformi mai più in un frutto è stato abbastanza traumatico voglio dire. Fran Franco intanto a livello appato a livello 14 ammetto il path finding automatico ovvero il fatto che lui ti cerchi la prossima destinazione in automatico è veramente molto comodo potete anche fare i combattimenti in automatico. Oh guardali che adorabili e pucciosi sono i colleghi di lancillotto aspetta 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 posso risvegliare un nuovo personaggio o maronne una collezione incredibile di lancillotti come non ci fosse un domani. Uh perfetto in teoria possiamo anche migliorare il nostro animale portandolo da 3 a 4 stelle che quindi lo renderanno più potente infatti se apriamo il nostro diario potete vedere che prima di tutto possiamo equipaggiare fino a 3 animali ma soprattutto lì possiamo anche evolvere. Vediamo un po' guardate la forma ultima del nostro lancillotto aspetta no la possiamo sbloccare a 4 stelle non è decisamente niente male e peraltro serissimo qua è carino e puccioso qua ti fa capire che non gli devi rompere le scatole. Ovviamente level appandolo la sua abilità passerà al livello 2 e le varie statistiche come vitalità forza intelligenza e difesa aumenteranno del 5% tuttavia dobbiamo sacrificare i 3 animaletti pucciosi che ci hanno gentilmente appena dato quindi li fondiamo in un'unica nuova creatura potentissima. Vai lancillotto rendimi fiero cioè dotato di katana gente eh mica pizze fichi qua santo cielo ora dovremo essere in grado di fare decisamente molti ma molti più danni la nostra forza complessiva è anche aumentata guardatelo lui yeee come ho detto ci sono oltre 100 animali ragazzi quindi ne avrete da trovare e sbloccare che meta basta wow scusate stanno precipitando cadaveri dal cielo non credo sia normale oddio da queste parti il termine normale assume accezioni molto differenti ma vabbè dettagli non ci dovremmo fare troppi problemi vai così gioco porta pazienza sono un attimo subito da te ok con la nuova abilità di tornado potete vedere che li abbiamo trucidati senza nessun problema ottimo nel frattempo sono ritornati indietro così abbiamo consegnato la quest ora ci chiede di aprire l'interfaccia del nostro animale in modo tale da fare il suddetto upgrade perfetto gli abbiamo dato un po' di esperienza della serie meglio che nulla possiamo level apparlo di 25 livelli per adesso? oh no le mele sono ritornate indietro nel frattempo e a quanto pare il loro re ci vuole vedere da quando le mele hanno il re? cos'è successo? signori vi siete sbattuti addosso tra di voi non litigate ma che le mele sono persone un attimino con problemi eh ma vabbè dettagli ok vediamo un po' cosa vuole il re delle mele si vede che si rotola le scatole del delongamer che si fa i big frullatoni alle 4 di pomeriggio ma vabbè dettagli la cosa inquietante è che vogliono farci entrare all'interno di una caverna mmm cosa potrebbe mai andare storto santo cielo o maronne il loro re è un attimino arrabbiato salve buongiorno sono i suomichevoli skywalker di quartiere oh ok è stato più gentile del previsto mi ha dato praticamente un libro con delle abilità willa tante nuove abilità che possiamo apprendere perfetto le abilità stesse ovviamente sono upgradabili per adesso sono a livello 1 mano a mano che andiamo avanti ovviamente le potremo migliorare così diventeremo davvero una forza incredibile ok vediamo di entrare rapidamente all'interno della caverna dove sicuramente nessuna creatura malvagia proverà a sbranarci la faccia signorina vado avanti lei prima le donne i bambini oh mio dio si ma mi aspetti dai dicevo per dire ed ecco qua a quanto pare i bruchi mi aggrediscono male male e beh certo eh se le mele a quanto pare hanno problemi con i bruchi che gli entrano e gli fanno i buchi perfetto ok signorina non mi faccio comparire messaggi mentre sto lavorando porti pazienza ok li abbiamo sterminati praticamente tutti ancillotto mi raccomando non fermarti a mangiare bruchi ciccio oh porco cane altri bruchi ancora nessun problema nessun problema vai così come ho detto al massimo possiamo che fare il combattimento automatico e tanti saluti ecco qua vedete io non devo far nulla il buon franfranco più o meno dovrebbe cercare di non morire me lo auguro aspetta che tolgo il combattimento automatico sennò qua non la finiamo più oh oh abbiamo trovato a quanto pare un signore malvagio no vogliamo imprigionare questo pet lo dobbiamo liberare assolutamente oila ok il pet si è liberato da solo oppure l'hanno convertito o mi viene un attimo un dubbio no no mi sa che l'hanno convertito nel male vediamo di trucidarlo senza un minimo di rispetto si 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 è decisamente molto più forte del previsto vai così perfetto franfranco devi attaccare da quel lato bravo ciccio ogni tanto si gira franfranco è uno metto molto confuso ma come potete vedere olè lo abbiamo sconfitto senza nessun problema ok vediamo se riusciamo a farlo ritrasformare nella sua versione di base ok vai così bravo franfranco che c'ha le lucine e quelle magiche oh ma è bellissimo ma è la cosa più pucciosa che io abbia mai visto yey perfetto missione completata e ci hanno dato un sacco di premi tra cui esperienza e chi più ne ha più ne metta perfetto allora da quello che ho capito da questa schermata possiamo effettivamente evocare un pet ti prego ti prego ti prego vediamo se siamo fortunati e parapapà ok abbiamo ottenuto lil white ovvero il pet che abbiamo appena trovato ma è troppo pucciosissimo sto coso lui usa invece magie del ghiaccio ovviamente ci saranno diverse magie tra cui ovviamente quelle elementali perfetto tuttavia per adesso potete vedere che ne possiamo mettere solamente uno oddio lil white è anche più potente non tantissimo più potente ma voglio dire uila perfetto mi ha dato anche mille punti esperienza piccolo stellino ah per inciso questa è l'evoluzione del nostro piccolo lil white questa è la forma di base questa è la forma evoluta e questa è la mega forma non so neanche quando si riuscirà a sbloccare però signori diventerà un pet di tutto rispetto guarda che roba vai roba serissimo sento cielo perfetto l'ancillotto mi dispiace ti ho lasciato indietro ragazzi per favore non litigate tra di voi cioè i pet che sono un attimino incocchiati tra di loro e fanno a gara su chi è quello più importante ottimo nel frattempo abbiamo raggiunto la prossima ridente cittadina franco non sei molto bravo a guidare per favore ciccio non ti schiantare mi fai fare brutta figura con gli iscritti a terra con molta delicatezza sarebbe la prima volta che non fa esplodere qualcosa c'è franco riusciva ad avere incidenti col triciclo mob dettagli oh abbiamo raggiunto come dicevo una nuova ridente cittadina in cui ancora non conoscono franco che cosa buona è tanto giusta pertanto non dovremmo fare troppe brutta figura guarda giocatori che ci sono scusate mi è arrivato il passero di del piero con ok come non detto si è unito a un altro passero cosa sta accadendo porchi di quelli per porca allora guardate quanti ce ne sono abbiamo trovato un mercante malvagio che a quanto pare sta sfruttando i propri lavoratori io non ho fatto niente signori non c'entro nulla ma perché dove dobbiamo litigare volemmo se bene porchi di quelli per porca franco fagli vedere il potere del tuo turbinio ha fatto una marea di danni passare io la voglia di attaccarmi così senza un minimo di rispetto perfetto abbiamo anche trovato del nuovo equipaggiamento che migliora le mie statistiche tra cui l'intelligenza allora per adesso se io vado sulla mia borsa posso vedere ovviamente tutto quello che ho nel mio inventario sono povero quindi vabbè dettagli e potete vedere che possiamo anche equipaggiare diversi pezzi di equipaggiamento come stivali mantelli collane scudi le varie armi e via dicendo in modo tale da aumentare le statistiche del nostro fran franco che nel frattempo ha raggiunto il livello 21 fran franco ora non è che si fa troppi problemi eh ah volete ridere potete anche sbloccare degli elementi estetici nel caso di fran franco che è un brutto ometto lo facciamo andare in giro con la scatola in testa questi ovviamente li dovete ottenere in un modo o nell'altro questo è fran franco in versione cattivo ma poco etero questo è fran franco che a quanto pare ha cercato di rubare i ciocobo da final fantasy ma vabbè dettagli e guardate che roba questo è fran franco invece con l'armatura seria più seria ha la faccia da pirla ma almeno c'è l'armatura seria beh ovviamente come dicevo ci vorrà un sacco di tempo prima di riuscire a sbloccare tutto no fran franco la situazione sta prendendo una piga abbastanza inquietante per favore basta signori direi che per questo video allora è tutto il povero fran franco deve fare il riposino pomeridiano voi invece non fatevi scappare le incredibili offerte di app gallery in descrizione trovate tutti i link per scaricare questo fantastico store e molto altro e noi invece ci vedremo in un prossimo video ciao 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 ciao